Musica Non otto lini di accensione con relative chiavi e due centraline elettroniche appartenenti ad una Citroen C3 risultata rubata a Porto Cesario lo scorso 31 marzo appena sette giorni fa montante la targa regolare di un altro modello simile ritrovata insieme al materiale in un garage utilizzato per il riciclaggio delle auto rubate nel quartiere Sant'Elia di Brindisi l'auto era stata privata del motore e di parte della carrozzeria insomma era già in fase di smontaggio la scoperta è stata effettuata da agenti della squadra mobile nel corso di operazione nell'ambito di furti auto che hanno anche denunciato un 47enne Brindisino, B.A. le sue iniziali con precedenti per reati contro il patrimonio l'accusa per l'uomo ritrovato in possesso della chiave del box in questione è quella di riciclaggio i numeri di traio della Citroen non erano ancora stati modificati per cui si è riusciti a risalire facilmente al veicolo rubato tutto il materiale rinvenuto e i box sono stati sottoposti a sequestro per preservare le prove del reato il materiale rinvenuto e i bambini di traio della società e i bambini di traio delle cose